Una legge completamente migliorata rispetto a come è entrata perché si riconferisce l'autonomia ai comuni per quanto riguarda il governo del territorio in merito a varianti urbanistici approvate che rischiano di essere bloccate. Si riconferisce la possibilità comunque di fare anche nel territorio urbanizzato interventi urbanistici dotati all'ampliamento delle funzioni industriali e commerciali in particolar modo anche agricole e soprattutto si sostanzialmente inserisce un criterio importante di un finanziamento a valere sugli oneri di urbanizzazione per tutti i comuni che ospiteranno grande distribuzione e saranno obbligati a versare almeno il 10% a favore dei centri commerciali naturali, dei negozi di vicinato e dei centri storici. Quindi un provvedimento importante guarda un'attenzione a limitare la grande distribuzione ma in maniera diretta a finanziare anche il mantenimento di questi importanti negozi di vicinato senza quali la vivibilità della città diminuisce.